Stiamo fuori dalla linea Secondo me c'è caduto una lampara, è possibile? Una lampara? Un lampo c'è caduto la lampara Guarda hai visto qualche lampara? Una lampara Cos'è una lampara? Una lampara è schifffa per partire la luce Se schifffa Ma secondo? Una bella Ahi sta, si vede perfetto Si vede la polvo